mercedes cla 180 di aprile 2015 in allestimento executive con la motorizzazione 1.5 diesel da 109 cavalli abbinata a un cambio manuale a sei rapporti ciao amici di Pico del San Cesario sono Davide oggi vi proponiamo questa bellissima berlina di casa mercedes la andiamo a scoprire più da vicino capire perché ve l'abbiamo selezionata prima però vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale youtube e attivando le notifiche sarete sempre ultimi ad accedere alle nostre offerte andiamo andiamola subito a scoprire più da vicino a me piace tantissimo in questa colorazione bianca con il tettino in cristallo che fa a contrasto eccola qui e con il crit cromo intorno a tutti i finestrini devo dire che la grosseria si trova davvero in eccellente stato abbiamo qualche piccolo segno qualche strusciatura ma davvero nulla di grave l'auto è assolutamente non incidentata vi dico subito anche il chilometraggio che sono 197 mila chilometri come sapete solitamente selezioniamo auto con meno chilometri e quando selezioniamo queste vetture lo facciamo sempre perché si trovano davvero in eccellente stato partiamo poi qui dai gruppi ottici sull'avantreno che si trovano in eccellenti condizioni sono originali i cerchi lega sono un pochino usurati normale comunque per il chilometraggio effettuato cerchi da 17 pollici bicolor i pneumatici sono estivi e hanno un battistrada veramente pari quasi al nuovo quindi tanti tanti chilometri ancora per correre frecce integrate negli specchietti vedete qui anche sul posteriore il porta bagaglia abbastanza ampio si sviluppa soprattutto in profondità l'auto vi dico subito è unico proprietario e ha tutte le manutenzioni certificate in mercedes ecco qui tra l'altro l'ultimo tagliando che vi faccio vedere fatto ovviamente in mercedes ma abbiamo in ufficio tutti i tagliandi eseguiti un check stampato proprio da mercedes qui a 187 mila chilometri a luglio 2023 ecco qui abbiamo anche il cambio gomme eseguito a 193 mila chilometri quindi le gomme hanno appena 5 mila chilometri i sedili sono di tipo pelle tessuto un pochino rovinato quel fianchetto ma ovviamente è facilmente riparabile per il resto è perfetto anche quello del passeggero così come i posteriori provvisti anche di agganci isofix il volante guardate non sembra assolutamente il volante di un'auto che abbia quasi 200 mila chilometri abbiamo anche i comandi adesso vi parlo di tutti gli accessori nel test su strada eccoci amici oggi parliamo subito degli accessori di cui è dotata la vettura vi ricordo che li potete scoprire tutti andando a visionare l'annuncio sul nostro sito www.privagar.com sezione san cesario partiamo dall'accessorio più qualificante di cui è dotata la vettura ovvero velo giro un attimino velo giro ecco che qui non si vede il tettino in cristallo totalmente apribile automaticamente con meccanismo ovviamente perfettamente funzionante l'abbiamo testato e provato oggi lo tengo aperto grazie al fatto che è una bellissima giornata eccoci qui riposizioniamoci tra gli altri accessori poi abbiamo i comandi al volante abbiamo il richiamo vocale il bluetooth vari automatici quattro finestrini elettrici specchietti gestibili elettricamente poi abbiamo il display con il navigatore e la possibilità di collegare come dicevo lo smartphone sia con bluetooth o con cavo le impostazioni delle luci esterne quindi il pacchetto luci esterno e il climatizzatore manuale start stop e disattivabile e tanto tanto altro adesso vediamo un po anche come va su strada devo dire che il 1500 da 109 cavalli non si fa sentire troppo all'interno dell'apidacolo che è comunque ben rifinito come da prassi mercedes per quanto riguarda la rumorosità anche nell'avantreno avendo comunque parecchi chilometri la vettura l'abbiamo bene testato e devo dire che non abbiamo rilevato anomalie anomalie nessuna scheda dello sterzo io su braccetti o sospensione ovviamente tra l'altro la macchina che ho già detto in precedenza è sempre stata in manutenzione in mercedes per quanto riguarda i consumi direi questo è forse il punto più forte della vettura siamo all'incirca su un percorso misto a 20 chilometri con un litro quindi proprio pari 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 devo dire che l'abbiamo testata in extra urbano e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni arrivando a toccare stando abbastanza attenti anche i 25 chilometri con un litro abbiamo il cambio che è manuale quindi anche in autostrada riusciamo a utilizzare la sesta marcia rimanere molto bassi di giri e anche lì non sporiamo comunque i 18 chilometri con un litro direi che i consumi sono davvero approvati e credo che sia davvero il punto più forte di questa vettura io vi ricordo che potete venirla a visionare e provare e capire se potrebbe essere l'auto adattare le vostre esigenze per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video per fissare il vostro appuntamento per questo video è tutto un saluto e alla prossima ciao ciao